Non è che ho deciso di diventare installatore, probabilmente lo sono sempre stato fin dalla nascita perché fin da bambino ho sempre avuto interesse e ammirazione nel vedere quello che facevano i miei genitori e quello che faceva mio fratello e cosa riuscivano a fare insieme. È un luogo dove trovi l'ispirazione, più che l'ispirazione trovi quella pausa, quella pace, quella tranquillità che ti permette di fare dei pensieri nuovi, delle cose diverse dal tram tram quotidiano. Il concetto di buona la prima in questa attività lavorativa è fondamentale perché oggi il mercato non ci permette di avere grandissimi margini per poter sbagliare nell'approvvigionamento dei materiali o nelle scelte progettuali. A piccolo appena ho cominciato ad avere l'uso delle mani in maniera idonea ho cominciato subito a fare degli esperimenti per conto mio in segreto e mi ritiravo in garage mentre mia mamma al piano di sopra faceva le sue cose e provavo ad armeggiare con qualche apparecchio, con qualche cavo, con una spina e provare ad inventarmi qualcosa di diverso. E mi sembra ancora di sentire le urla di mia madre che mi dice cosa sta succedendo perché è saltata la corrente e quindi i miei esperimenti erano totalmente fallimentari. Quindi mi sono sempre più avvicinato alla parte tecnica dell'azienda cercando di curare al massimo quelle che sono le scelte sui materiali da impiegare, le scelte tecnologiche e tutto quello che serve per portare avanti le commesse. Gran parte del tempo ovviamente cerco di trascorrere in famiglia credo sia fondamentale per farci sentire sempre più vivi. Sono Darius Zago ho 42 anni e sono un installatore professionista. Grazie a tutti.